L'anno scorso ho scoperto il Moscow Mule, un cocktail che non conoscevo e mi ha cambiato la vita effettivamente, fino a quando a Bologna poi ho conosciuto quest'altro barista che me l'ho fatto con la Ginger Beer invece che con la Ginger A. Cosa che non ho mai sentito dire, cosa che non ho mai visto, è incredibile, c'è proprio un gusto, un sapore che ti riempie la bocca, è stata praticamente un'epifania, in ogni bar che vado, in ogni posto che vado chiedo innanzitutto se hanno la Ginger Beer, l'abbiamo anche liscia e penso che sia una cosa incredibile, se non l'hai mai provata te la consiglio alla grande. Finisce così in belletto.